bella raga benvenuti in questo nuovo video oggi siamo venuti a crotta per provare la nuova pista che ha fatto il buon carletto siamo con due mezzino oggi siamo tornati con due tempi e niente ragazzi non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo dentro a dare del gas benvenuti in questo video Grazie per la visione 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 L'unico punto è quello Però solo per la sicurezza Perché per il resto Molto bella E quindi niente ragazzi Mi raffreddo e mi cambio E abbiamo finito per oggi Il due mezzino non delude mai Quello va bene Quindi ci vediamo in un prossimo video ragazzi Grazie per la visione